Sono partiti sia Formula 1 che Superbike, manca come ultimo campionato principale motoristico la MotoGP e infatti partirà tra una settimana a Portimao e come tutti gli altri campionati fatti quest'anno presentiamo a una settimana dall'inizio del campionato del mondo la MotoGP con calendario e piloti nonché relative categorie di contorno nel podcast di presentazione. Partendo come al solito dal calendario, eventuali favoriti, cosa è emerso nei test, insomma una panoramica completa per avvicinarci al campionato delle moto per quanto riguarda i prototipi a differenza delle Superbike che invece ricordo sono derivate dalla serie. 21 gran premi previsti per il calendario MotoGP 2023 anche se le gare in realtà saranno 42 e qui entriamo subito in un tema che per la verità non mi sta molto bene perché vengono introdotte le gare sprint ma vengono introdotte in una maniera massiccia, una terapia d'urto mi verrebbe da dire. Per ogni gara infatti che vediamo qui a calendario sarà il sabato dopo le qualificazioni della MotoGP una gara sprint che dura praticamente la metà di una gara normale, veramente un intervento massiccio da parte di Dorna per evidentemente attrarre ancora di più una MotoGP che evidentemente anche dopo il ritiro di Valentino Rossi e il conseguente ricaro dei prezzi anche per la pandemia ha evidentemente avuto meno seguito. Di conseguenza la Dorna ha deciso di aumentare le gare in modo abbastanza scellerato per modo di vedere perché già 21 gare per questi motocicisti secondo me sono più che sufficienti, parliamo già di base in condizioni normali del calendario più ampio di sempre, metterci anche le gare sprint per contattare di 42 gran premi di fatto è un qualcosa di folle. Avrei capito magari un'introduzione un po' più graduale come magari capita in Formula 1 o dei format particolari come Formula 2 e Formula 3 così mi pare evidentemente troppo anche perché poi calcolando che bisogna fare la gara sprint alla MotoGP vengono sacrificate le prove libere delle altre categorie che vengono un pochino messe da parte. Una cosa che non mi sta bene fatto sta che avremo un calendario folle di base partendo appunto dal 26 di marzo a Portimao e chiudendo il 26 di novembre appunto alla comunità valenziana al circuito di Valencia il Riccardo Torbo. Come sempre due appuntamenti italiani il primo è l'11 di giugno all'autodromo nazionale del Mugello oramai una classica del mese di giugno e poi ovviamente come sempre a settembre ci sarà il gran premio di Misano Adriatico che fa la doppietta come tutti gli anni per quanto riguarda le moto perché sappiamo che il 3-4 giugno ci sarà il round delle superbike e il 10 settembre quello invece delle MotoGP. Un round spostato in realtà di una settimana sappiamo che Misano è sempre la prima settimana di settembre va detto però che appunto per vari incaste di calendari molti gran premio sono trasladati veramente più in là. La novità appunto è che non apre il Qatar come appunto tradizione ma apre Portimao circuito che a me piace tantissimo anche per le Formula 1 che invece quest'anno è praticamente a panna soltanto delle moto. Il Qatar viene spostato di fatto al penultimo gran premio dell'anno semplicemente perché vengono fatti i lavori di manutenzione in modo da ospitare anche le gare di Formula 1 infatti anche il Circus della FIA andrà a ospitare una gara appunto nel circuito Katariota. Due grosse novità sono introdotte in questo calendario e sono due gran premi esodici da un certo punto di vista. Il primo è l'esordio assoluto del gran premio del Kazakhstan al Stockholm International Circuit che è situato diciamo ad Almaty una cittadina in realtà a 76 chilometri. A nord ovest di Almaty la capitale o meglio una delle città più importanti del Kazakhstan la capitale sapete che è Astana invece fa un ritorno e sotto un'altra veste il Bud International Circuit per il gran premio dell'India. Anche qui Dorna un po' come Liberty Media in Formula 1 cercando di espandere il mercato del campionato sicuramente più mediatico delle moto e lo fa con dei posti incredibilmente esotici come appunto Kazakhstan e India. Il Bud International Circuit Dorna va a aver ospitato due o tre edizioni del gran premio d'India in Formula 1 ai tempi di quando Sebastian Vettel vincette i mondiali con la Red Bull. Qui sarà appunto un esordiente assoluta esattamente come il Kazakhstan. Non c'è il gran premio di Finlandia che in realtà non è mai stato ospitato semplicemente perché la società che l'ho organizzata ha dichiarato bancarotta. Novità dunque in calendario, novità anche per quanto riguarda i piloti perché sappiamo che dal 2022 al 2023 non c'è più la Suzuki che ha vinto un mondiale. Con Juan Mirna stagione corta del 2020 e dunque sono soltanto 22 i piloti regolari iscritti a questa competizione per di fatto 6 costruttori. Aprile Ducati, Gas Gas, Honda KTM e Yamaha anche se Gas Gas in realtà è una sottospecie di KTM. La moto da battere è sicuramente Ducati, la team da battere è sicuramente la squadra ufficiale, quella della Ducati Lenovo Team con il campione del mondo regnante Francesco Bagnaia che dunque difenderà il titolo anche di fatto con il numero 1 in carena, un po' come Bautista. In Superbike Bagnaia è ancora evidentemente il favorito tecnico per questo gran premio visto che l'anno scorso ha dimostrato di avere un passo invidiabile in quasi tutte le gare. Nelle gare dove invece doveva difendersi ha limitato molto bene i danni, nei primi test sembra che la moto Ducati di quest'anno in MotoGP sia performante esattamente come quella dell'anno scorso e dunque è ovvio mettere Bagnaia come favorito tecnico per questo campionato del mondo 2023. È cambiato invece il compagno di squadra di Bagnaia ovvero il best di Rimini e Nea Bastianich. Ho fatto una stagione incredibile come appunto privatista diciamo del team Gresini va in Ducati Ufficiale ed è una chiamata assolutamente meritata e meritevole per uno dei miei pupilli da sempre. Io e Nea Bastianich lo seguo da quando era in Moto3 e mi è sempre piaciuto. Sono stracontento di averlo visto vincere delle gare l'anno scorso in MotoGP, 4 per la precisione e averlo visto anche chiamato quest'anno in Ducati Ufficiale. Sarà un grande match secondo me tra Bagnaia e Bastianich, scusate, non solo per il titolo del mondo ma anche per quanto riguarda la lotta interna. Ovvio che Bagnaia conosce la Ducati Ufficiale da più tempo di Bastianich, però Bastianich è un pilota che di talento pur evidentemente a tratti anche nelle categorie inferiori era più forte di Bagnaia. Sarà veramente un bel duello, ovvio che il piemontese rimane il favorito. Chi deve invece rincorrere sono evidentemente Yamaha e Honda soprattutto, anche Aprilio ovviamente. Ma la Yamaha è la squadra che deve evidentemente più riscattarsi perché Fabio Quartarolo dopo aver fatto un grandioso mondiale nel 21 ha difeso per quanto poteva il titolo del mondo nel 2022 con una Yamaha che veramente era un cancello. E anche quest'anno le dichiarazioni nei test, soprattutto quelli di Portimao, non sono state probabilmente il massimo per il piatta francese nato a Nizza. Certo che Yamaha è un po' la nobile decaduta, quantomeno delle ufficiali, perché è una squadra che non ha neanche un team clienti, addirittura a Aprilia ne ha uno. E passare da un numero di piloti che potevano dare una mano nello sviluppo della moto a un team ufficiale e basta con un pilota che comunque ha dimostrato tantissimo talento, ovvero Quartarolo e un altro po' che si deve riscattare, ovvero Franco Morbidelli, insomma non è una stazione probabilmente felicissima. È una Yamaha che andrà visionata con molta attenzione, Quartarolo deve appunto riscattare una stagione tremenda dai suoi livelli ovviamente. Nel 2021 lo stesso discorso va fatto per Franco Morbidelli, al netto che comunque tra infortuni, problemi vari, una moto che l'anno scorso non andava se non solo per Quartarolo, ma perché Quartarolo è un fenomeno e gli altri facevano veramente fatica. Insomma, il pilota isola brasiliano deve assolutamente riscattarsi, è un pilota che non merita di stare nei bassi fondi della classifica, come è capitato gli scorsi anni, sarà importante vedere il riscatto anche del numero 21. C'è l'Aprilia che è stata invece una squadra sorpresa l'anno scorso e che evidentemente deve crescere e lo può fare ancora quest'anno. E ovviamente la squadra che vince non si cambia perché l'Aish Spargaro è arrivato nelle prime posizioni di un mondiale, non è mai accaduto, perché l'anno scorso abbiamo visto l'Aish Spargaro evidentemente più forte di sempre da quando è in MotoGP. Spargaro, scusatemi, è stato un pilota comunque definibile e onesto mestrante fino a qualche anno fa, con questa Aprilia che lui comunque ha sviluppato fin dall'inizio, alla fine è arrivato alla piena maturazione e quest'anno può evidentemente confermare il percorso dell'anno scorso. E in un certo senso lo stesso discorso si può fare per Maverick Vignales, che sappiamo essere andato via da Yamaha, di fatto sbattendo la porta, è andato in Aprilia, ha preso un po' di confidenza nei primi mesi del 2021, nel 2022 invece ha fatto delle buonissime prestazioni, Vignales può comunque crescere e dare una mano a questa Aprilia che ha secondo me per una volta due piloti di punta di assoluto spessore, a differenza magari di Honda che fa la stessa cosa ma appunto con un pilota che sicuramente è il favorito per arrivare davanti agli altri, e gli altri piloti evidentemente a rincorrere. Il favorito tecnico della Honda è evidentemente Marc Marquez, che l'anno scorso sappiamo che ha corso in condizioni tremende, con un braccio infortunato, non al meglio, e comunque qualcosa ha fatto vedere anche, perché Marquez al netto delle simpatie e antipatie della gente è un talento straordinario e questo va riconosciuto. A me Marquez francamente non piace dal punto di vista caratteriale, ma comunque è un pilota che di manico ce ne ha e da vendere. Sarà una bellissima lotta, secondo me, quella con il suo compagno di squadra, ovvero quel campione del mondo del 2020 con Suzuki, ovvero con Amir, che passa appunto da Suzuki ufficiale di relitta e abbandonante la MotoGP, a Honda ufficiale in un box però che ha mie tutto vittime illustri per quanto riguarda i compagni di squadra di Marc Marquez, perché appunto c'era Pedrosa e andava bene, è arrivato Lorenzo e ha fatto una finaccia, e tutti gli altri che sono seguiti dopo Lorenzo, anche loro hanno fatto più o meno fatica, l'ultimo è stato Polizio e Spargarò. Amir comunque è un pilota che di costanza può portare dei buoni punti a Honda, Amir non brilla di certo per talento puro in MotoGP quantomeno, ma appunto per la caratteristica di fare sempre delle buone gare senza problemi vari, sarà importante vederlo anche in questa sveste di secondo pilota, in tutto e per tutto, di Marc Marquez. L'ultima squadra ufficiale propriamente detta è la KTM che va detto nei test non è il risultato essere la moto più competitiva dell'otto, anzi ha comunque due piloti molto interessanti, il grande colpo è quello di Jack Miller che da Ducati ufficiale passa a KTM ufficiale, la squadra che di fatto lo ha cresciuto, Miller è arrivato in Moto3 proprio con la Red Bull KTM Aio, quindi KTM ufficialissimo di tutto e per tutto, anche se penso che il go-to guy di KTM sarà il sudafricano Brad Binder che è dimostrato di vincere anche delle gare folli in condizioni da bagnato, vedi Austria qualche anno fa di essere un pilota aggressivo ma comunque molto capace su questa KTM ufficiale, sarà assolutamente importante che tutta la casa austriaca faccia un salto di qualità e magari ci può riuscire con il suo team clienti al netto che ha una fornitura ufficiale, parliamo del team Gas Gas Racing Team che appunto di fatto è un altro costruttore, ma orbita nella famiglia KTM quindi sarà importante vedere secondo me anche le persone di questa squadra ufficiale, il grande colpo di Gas Gas è Polizio Espargarò che anche lui appunto è arrivato da KTM a Honda dopodiché è tornato indietro secondo però una squadra factory, anche se il team Tech Troyes fino all'anno scorso è una squadra clienti, a questo punto Espargarò potrà puntare secondo me a una buona top 10 con costanza, mi aspetto però grandi cose dall'unico rookie di questa stagione della MotoGP, ovvero Augusto Fernandez Guerra, un pilota che a me piace tantissimo, è un pilota che in Moto2 ha fatto vedere cose molto buone, è un pilota che appunto ha la possibilità di emergere meglio in MotoGP rispetto a come avevano fatto i piloti precedenti, vedi per esempio Raul Fernandez, vedi per esempio anche Remy Garner, Enrico Lecuona, gente comunque che adesso è in superbike, tranne appunto Raul Fernandez che però sta facendo comunque discretamente. Fernandez Guerra arriva con dei crismi di buonissimo pilota, è campione ragnante della Moto2, ha vinto il titolo nel 2022 con KTM Aio e adesso è la prova del 9 in MotoGP. Passiamo adesso a tutti gli altri team, a cominciare da quelli più quotati per quanto riguarda la formazione degli indipendenti, a cominciare dal team Pramac che di fatto conferma Johan Zarco e Jorge Martin. Zarco è l'eterno incompiuto che è arrivato in MotoGP da bicampione mondiale Moto2 e che in MotoGP ha fatto dei podium, ha mai vinto una gara. È un pilota che è molto gentile con le gomme, molto aggressivo, a me piace Johan Zarco e secondo me con le condizioni giuste può evidentemente fare l'outsider di lusso. Non lo vedo evidentemente indotta per il titolo del mondo perché abbiamo visto come anche l'anno scorso questa MotoGP era assolutamente equilibrata anche rispetto ad altri tipi di campionato. Zarco comunque insieme al suo combo di squadra Jorge Martin possiede una Ducati ufficiale di fatto in tutto e per tutto. La GP23 è anche appunto a disposizione del team Pramac, ha detto che appunto Pramac è un team privato, mentre Ducati del nuovo team è appunto il team ufficiale. Martin per talento puro invece è un pilota che si distingue non solo da Zarco ma anche da gran parte del Circus nel modo di vedere e può avere secondo me un grande salto in avanti per quanto riguarda la Ducati e la sua carriera. Abbiamo visto come qualche anno fa in condizioni di infortunio e non al 100% abbia fatto delle pole position e dei podi e anche delle vittorie. Quindi Martin se sta bene di testa al 100% può dare assolutamente un grande contributo. Gli altri team clienti, un altro team della Ducati che ha veramente una schiera evidentemente di Desmo 16 a disposizione, sono ben 8 i piloti del Ducati team. Il team VR46 conferma. Luca Marini e Marco Bezzecchi, il fratellato di Valentino Rossi, è cresciuto comunque nel finale della scorsa stagione e appunto nei test ha dimostrato comunque di sapersi adattare bene a questa nuova GP22 per lui, visto che l'anno scorso correva con una Ducati 21 che non era propriamente il massimo per le sue caratteristiche. Stesso discorso si può fare per Marco Bezzecchi anche se Bezzecchi è comunque un po' più giovane, ha dimostrato magari un po' di più rispetto magari a Luca Marini. Va detto che comunque è una squadra interessante quella del team VR46 con due piloti giovani italiani che possono continuare a crescere senza se e senza ma. Chi può continuare a crescere? Sicuramente Fabio Di Gianna Antonio, qui passiamo invece al team Grisini Racing MotoGP Di Gianna Antonio è confermato rispetto all'anno scorso. Comunque anche l'anno scorso Di Gianna Antonio ha avuto un grandissimo explà, ovvero la pole position, la prima della carriera di MotoGP, arriva invece come sostegno a Zichene e a Bastelini Alex Marquez che dopo anni inonda all'ombra del fratello Marco prima nel team ufficiale poi nel team di Lucio Cecchinello emigra di fatto per altri lidi e va in Ducati. Vediamo se Marquez libero di testa può fare meglio rispetto agli altri anni. Va detto che a me Alex Marquez francamente non è che mi piaccia tanto e non capisco francamente cosa ci stia a fare in MotoGP ma è ovviamente una mia banalissima opinione personale. Il team LCR appunto di Luca Cecchinello conferma Takahe Nakagami ovviamente l'unico giapponese su moto giapponese non poteva non essere confermato il grande colpo in realtà è Alex Rins che appunto anche lui emigra da Suzuki che si è ritirato e va appunto a fare il piota di punta del team clienti di Honda Rins nelle giuste condizioni può essere un piota francamente da sicura top 10 come una moto indipendente top 5 forse si può andare bene? Vedremo sarà comunque una buona prova del 9 questa per il numero 42 dopo anni di vittorie podi in Suzuki. L'ultimo team che manca in realtà all'appello è quello della RNF MotoGP Team che l'anno scorso era un team clienti delle Yamaha ma che è emigrato verso Aprilia e ha una squadra potenzialmente interessante perché ha due piloti giovani uno in realtà più esperto dell'altro ma che possono sicuramente farsi uno confermarsi e l'altro sorprendere. Chi ci deve confermare è Miguel Oliveira pilota che non è l'ultimo dei fermoni ha vinto delle gare in MotoGP ha fatto dei podi con KTM anche clienti quindi è un pilota che sa rendere al meglio con la testa libera e anche con moto inferiore rispetto al potenziale. Chi deve invece crescere è sicuramente Raul Fernandes che di talento puro è molto molto promettente è un pilota che non ha ancora però espresso evidentemente il massimo di MotoGP è giovanissimo va detto e l'anno scorso il team RNF praticamente contava anziché no di conseguenza sarà importante vedere evidentemente il suo sviluppo in realtà Fernandes era nel team KTM ma cambia poco è un pilota che può farsi arriva con i crisi del pilota talentuoso vedremo se questo talento verrà incanato nella direzione giusta. Questa è la MotoGP dunque 22 piloti per 21 gare anzi 42 ricordiamo che ci sono queste meravigliose gare sprint gare sprint che invece non ci saranno nelle categorie propedeutiche a partire da Moto2 e Moto3 una Moto2 che di fatto torna a essere un monomarca Kalex eccezione fatta per due case costruttrici perché abbiamo il team Speed Up che schiera l'Ebosso Scuro B23 con la coppia che evidentemente ha sorpreso di più l'anno scorso ovvero Alonso Lopez e Fermin Aldeguer con il 54 che deve secondo me riscattarsi dalla stagione scorsa dopo aver perso da Alonso Lopez che comunque ha fatto dei poli e anche delle vittorie lo scorso anno e torna invece il team Forward che da MV Agusta passa di fatto a una moto prodotta in casa appunto la Forward F2 con il confermato Marcos Ramirez e l'esordiente Alex Eskrig pilota che viene dalla Moto E con l'esordio assoluto in Moto2 piloti italiani presenti in questa categoria intermai ce ne sono pochissimi in generale se ne abbiamo tanti in MotoGP e in MotoE soprattutto nelle categorie Moto2 e Moto3 facciamo veramente fatica a esprimere dei piloti nuovi perché abbiamo la conferma per esempio di Dennis Foggia che evidentemente è il pilota più talentuoso del Novero evidentemente dei partecipanti insieme a Tony Arbolino che appunto lui invece viene confermato nel team Mark VDS Arbolino probabilmente è la carta più importante per il tricolore per acquistare conquistare meglio il titolo del mondo confermato Celestino Vietti nel team Fantic che in realtà è il vecchio team VR46 ci doveva essere anche Niccolò Antonelli ma al suo posto è stato preso Borca Gomez pilota spagnolo con l'Antonelli retrocesso all'Europeo Moto2 l'ultimo italiano è Lorenzo Darraporta che appunto passa al team SAG che è un team di medio passa classifica sarà comunque importante per il piatta toscano andarsi sicuramente a riscattare chi tenere d'occhio secondo me per il mondiale Moto2 senza dubbio il 37 Pedro Acosta che l'anno scorso ha fatto un po' l'apprendistato dopo aver dominato l'anno scorso in Moto3 e Moto2 può dare secondo me quel salto di qualità dopo un anno in più quindi attenzione sicuramente a Pedro Acosta attenzione in realtà a tutta KTMA perché il compagno di Acosta è Albert Arenas che è campione mondiale Moto3 del 2020 non sottovalutare mai Sam Lowe's anche se il pilota inglese è molto incostante di conseguenza più che fare il pretendente al titolo del mondo può essere un outsider di lusso chi considerava secondo me il titolo del mondo è sicuramente Sergio Garcia che va direttamente nel Team Pons HP40 Garcia è stato uno dei contendenti al titolo del mondo della Moto3 però perdendolo c'è Aaron Canet altro pilota spagnolo e altro pretendente al titolo del mondo chi può fare secondo me invece il salto di qualità clamoroso è Isan Guevara che arriva direttamente dalla Moto3 da vincitore dominante assolutamente e va o meglio rimane nel Team Gas Gas Spar Racing Team che è lo stesso con cui è il quale ha dominato il Mondiale Moto3 dello scorso anno con parola di squadra per alto di Guevara Jake Dixon non è propriamente lui il candidato ideale al titolo del mondo ma è un pilota che può fare anche lui l'outsider di lusso se ci sono dei nomi interessanti in Moto2 ce ne sono anche in realtà in Moto3 dove in realtà anche qui c'è molto più equilibrio indicare praticamente un pretendente al titolo del mondo è abbastanza difficile perché abbiamo tanti avvicendamenti abbiamo ritorni da KTM a Honda abbiamo piloti nuovi abbiamo qualche italiano che secondo me può fare bene al netto che probabilmente non abbiamo probabilmente il pilota dal titolo del mondo chi può secondo me puntare al titolo del mondo è il pilota spagnolo Daniel Holgado che l'anno scorso era in KTM Tech 3 ed è ha fatto diciamo lo switch da team privato a team ufficiale l'altro pilota che può fare il salto di qualità è Denis Honkou il fratello di Gian che corre in Superbike altri piloti da tenere d'occhio sicuramente Antonio Rueda che ha vinto il Junior Moto3 World Championship e invece per gli altri sarà di solito un macello incredibile il pilota molto cacchierato è sicuramente il pilota con la carena numero 44 David Munoz che è confermato il team Bue insieme ad Anna Carrasco unica donna del Circus almeno per quanto riguarda Moto2, Moto3, MotoGP e l'altro è David Salvador tutti piloti evidentemente spagnoli senza dimenticarci di Homme Masia che però è più un eterno incompiuto di questa Moto3 a differenza magari di altri piloti che si sono realizzati un po' più nel tempo non ci sono evidentemente secondo me italiani pronti a puntare al titolo del mondo ci sono dei clamorosi ritorni e dei nomi comunque che l'anno scorso erano già presenti in categoria ma che comunque sono giovani si devono ancora fare il grande ritorno a sorpresa quello di Romano Fenatti che per la venticinquesima volta torna in Moto3 se non sbaglio è in realtà la terza nella carriera del pilota oramai 26enne quindi anche molto avanti di età per correre ancora in Moto3 e torna nel team Sniper il team con il quale di fatto è cresciuto in Moto3 il team con il quale è andato in Moto2 poi è stato sospeso tornato indietro insomma una carriera travagliata quella di Romano Fenatti che probabilmente ancora oggi come talento puro dei 5 italiani che elencheremo è il più forte ha detto che a punto di vista caratteriale lo conosciamo e comunque evito di approfondire il discorso in questa sede è un pilota comunque che posso non appuntare al di là delle limiti caratteriali che ha a podi a punti con costanza top 5 se fa tutto bene insomma è un buon pilota quindi vedremo se con un'esperienza decennale oramai in questa categoria potrà fare quel stato di qualità al netto che altri piloti che sono qui da più di 10 anni visti in passato vedi McFee e Antonelli non abbiano fatto chissà che il compagno di squadra di Fenatti e Matteo Bertelli al secondo anno in classe leggera Riccardo Rossi viene confermato nel team 658 squadra di corso dopo l'anno scorso che ha fatto vedere qualcosina ma appunto il piatto genovese anche lui è giovane e si deve fare stesso discorso praticamente per Stefano Nepa Angelo Semetiatin insieme a Ivano Ortolà e l'esordiente assoluto invece è Filippo Farioli che invece ha fatto delle buone cose nello Junior Moto3 ha vinto delle gare ha fatto dei podi è un pilota secondo me per il futuro più appetibile rispetto magari agli altri che ho elencato prima o magari ovviamente spero di essere smintito da chiunque citato in questo video perché sapete che le mie analisi sono fatte per essere smentite ma Farioli comunque è un pilota secondo me che può puntare secondo me a tanta roba dal momento che corre in un buonissimo team il KTM c'è anche la MotoE che viene confermata per il fatto il quarto anno di vita di questa categoria dedicata soltanto alle moto elettriche una categoria che correrà 18 gare di partita in realtà su 920 se non sbaglio 18 piloti presenti con 9 italiani addirittura in competizione a partire in ordine da Matteo Ferrari che ha vinto la prima edizione in assoluto della MotoE nel 2019 confermato anche Alessio Finello pilota piemontese nel team Gresini longetta squadra corse schiera Kevin Zannoni associato a Kevin Manfredi che è il secondo anno evidentemente di MotoE team di italiano anche per quanto riguarda il team Pons HP40 con Nicolás Spinelli che sta facendo molto bene in Supersport per quanto riguarda invece i prototipi e Mattia Casadei che è uno dei piloti secondo me che può assolutamente puntare al titolo di categoria MotoE mi fa molto piacere invece vedere Luca Salvadori in un mondiale Luca Salvadori è erroneamente chiamato dai giornali più verificati diciamo così ha detto che io non sono un giornalista ma sono un semplice appassionato prima youtuber e poi pilota è un errore colossale Salvadori è un grandissimo pilota quantomeno a livello nazionale ha fatto l'europeo stock 1000 di categoria ha fatto il national sempre del superbike con il 1000 e finalmente arriva in questa MotoE a fianco a un nobile decaduto di questo sport ovvero Tito Nerabat che ovviamente gli mancava soltanto la MotoE per arrivare al copimento della sua carriera l'altro italiano è Andrea Mantovani che ha fatto un podio a Misano ovviamente ma squalificato in ogni caso è un piatto a tenere d'occhio anche lui proveniente dalle super sport attenzione anche al 19 e chiude Alessandro Zaccone che torna indietro dalla Moto2 dopo un anno a fatica con il team Gresini in MotoE secondo me Zaccone può fare assolutamente bene e può essere uno dei pretendenti al titolo del mondo assieme a chi probabilmente a quelli del team di Lucio Cecchinello in particolare al brasiliano Eric Granado che corre in superbike ricordo con il team mie di Honda e a Michael Pons anche se secondo me è più favorito il brasiliano attenzione anche ad altri piloti in questo elenco in particolare lo svizzero Randy Krummenacher il cavallo pazzo del MotoGC un pilota che a me ha preso tantissimo campione del mondo super sport nel 2019 e in un team molto valido il Dinamo il Dinamo Intact GP MotoE che è quello con il quale Egerter ha vinto il mondiale MotoE l'anno scorso e l'altro pilota ovviamente è Jordi Torres colui che ha vinto più di due del mondo di questa categoria ben due nei tre nei quattro tentativi precedenti ultima parentesi da fare per chiudere il race in podcast è ovviamente l'ingresso di Maria Herrera la seconda donna del Circus dopo Anna Carrasco anche se l'era guida moto tecnicamente più potente ricordiamo che quest'anno la MotoE ha cambiato fornitore da energica si è passata a Ducati quindi sarà di fatto un monomarca con delle moto che come peso ricordano delle MotoGP ma che come tempisti che vanno praticamente come una Moto3 per quello ci saranno pochi eventi ben calibrati si chiuderà il campionato a Misano Adriatico in contemporanea appunto con la MotoGP ricordiamo 10-11 settembre mentre appunto il mondiale praticamente letto parte il 26 di marzo tra una settimana esatta in realtà il 25 con la gara sprint di Portimao fatemi sapere cosa ne pensate di questa presentazione di questo podcast diciamo per analizzare i piloti il calendario e queste idee innovative tra virgolette di Dorna con una marea di gare sprint in MotoGP il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video